Buongiorno ragazzi, ora sono a Thailandia, sono al nord della Thailandia, siamo a Frey, ora siamo al tempio di nord, si chiama Ba Na Ku Ha, direi questo è un tempio che è molto lontano dalla città, è proprio sulla montagna. E noi abbiamo trovato anche la fattoria di riso, il riso che vengono per mangiare è questo, e vengono da questo, fiori di riso, bellissimo, quindi il riso che mangiamo qui è proprio qualità, è molto molto fresco. Ora vediamo un pochino la montagna da Nog. Ciao! 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 Ora stiamo vicino alla persona che raccogliono il riso, si vede da qui. Questo è proprio la stazione per raccogliare il riso, e ora siamo a novembre, solo un mese, ci prima un anno, quindi al nord ci facciamo il riso una volta per l'anno. Tantissimo! Vediamo qui! Qu'è il nace di creano? Assolutamente! E la sua parola non vediamo il pezgino. Qu'è il AO? E il mio il video da Spôte? Qu'è il mio il mio il video da Rambacchi. No ho capito, non ho capito. No! No! Acordiamo! Il Sì, l'apocco in Pappies e si formano un po' di Pappaya. questo facciamo soltam o papaya salad, insalata di papaya questo pevono verde, questo è quasi maturo però quello è ancora giovane, quindi quello che fa insalata è questo quello piccolo questo è bellissimo da giochi si sente un po' un profumo dolce e molto aromatico questa è la banana che vendono al mercato questo si chiama Chloe Namwa, una razza diversa da quell'uomo che vengono in Italia questo è più dolce e la consistenza più dentro questo si fa dolce, si vede per la strada, si è brillando, faccio anche da questo ogni giorno abbiamo visto frutta della cozzone lui, presenti sull'uomo ora non è ancora matura, dobbiamo aspettare quando sentono un pomerone, il rosso e che sia pronto non è ancora matura non è ancora matura non è ancora matura non è ancora matura